Ciao amici, dopo un po' di tempo torno a leggervi una storia di Tex, storia che è tratta dall'albo numero 560 del giugno 2007, quindi esattamente 16 anni fa. L'albo si intitola Moctezuma, testi di Claudio Nizi, disegni di Fernando Fusco, la copertina di Claudio Villa. La storia quindi si intitola Moctezuma, ovviamente anche qui lo dividerò in più capitoli per non fare un video troppo lungo, buon ascolto. Una notte di tempesta, una trentina di miglia sud di Bisbee, oltre il confine tra l'Arizona e il Messico. Fine dei nostri guai, fratello. Quella ha tutta l'aria di essere una locanda dove troveremo biare riposo per te e un letto asciutto per me. Pah, non è stata una gran pensata quella di scegliere questa pista invece dell'altra che passa da Cananea. Fermo! Slacciatevi il cinturone con una sola mano e attenta a quello che fate perché non vi perdo d'occhio. Splash! Adesso alzate le mani, agli ordini. Voltatevi, voglio vedervi in faccia. Siete un gringo, eh? Non ho l'abitudine di puntare la doppietta sul primo pinuto, ma prima di abbassarla voglio essere sicuro che non abbiate cattive intenzioni. Smah! Eh? Io non ho l'abitudine di lasciarmi puntare una doppietta da un tipo dall'aria nervosa al quale poteva scappare un colpo, anche senza volere. Avete ragione, signor. Sono molto nervoso, ma ho le mie bravi ragioni per esserlo. Porto il cavallo al riparo da questo diluvio, poi mi racconterete tutta la storia. Poco dopo. Mi chiamo Emanuela Ribas e questa mia moglie è Hilda. Vi riscalderà un po' di carne e fagioli. Non abbiamo altro da offrirvi. Da qui passano pochi viaggiatori e siamo quasi alla miseria. Posso avere subito una birra? Certo, signor. Portate un bicchiere anche a vostro marito. Mi farà compagnia. Le cose vanno male da quando è morto il vecchio proprietario di queste terre, Don Vittoriano Viglialta, che si dimostrava comprensivo e generoso con i campesinos. Il suo posto è stato preso dal figlio Diego, un padrone che dirube a fama la gente, che lavora per lui e che non esita a far uccidere dai suoi sgherri chiunque spinto dalla fama o insasperato dalle ingiustizie si azzarda a reagire. Viviamo tutti nella paura. Qualcuno ha deciso di andarsene e cercare lavoro negli Stados Unidos, ma non tutti se la sentono di abbandonare le terre in cui sono nati. Se le cose stanno così, capisco il motivo dei vostri musilunghi. E ancora non vi abbiamo parlato della disgrazia più terribile che ci ha colpiti, signor. Avevamo una figlia che era la luce dei nostri occhi e l'abbiamo perduta. Si chiama Maria Dolores e l'avevamo segretamente promessa a un bravo giovane Aurelio Torres che, per essersi messo in urto con gli scagnozzi di Don Diego, ha dovuto darsi alla macchia. Che cosa le è accaduto? Ve lo dirò. Circa un mese fa la carrozza di Don Diego si fermò davanti alla nostra locanda. «Lì, fermi! Uno dei cavalli sta per perdere un ferro!» Mentre io e il vetturino si occupavamo del cavallo, Don Diego entrò nella locanda per risetarsi. Appena entrato, misse gli occhi su Maria Dolores, notando il suo sguardo. Mia moglie si rimproverò di non averla mandata di sopra, in modo che lui non potesse vederla. «Sei molto graziosa, Cichita!» Sistemato il ferro, la carrozza ripartì. «Ma un paio di giorni dopo la vedemmo tornare e ne esce su tre fedelissimi di Don Diego. Il mio padrone mi incarica di manifestarvi la sua gratitudine per l'aiuto che gli avete dato e, avendo potuto constatare di persona che vivete in condizioni di povertà, intende aiutarvi prendendo al suo servizio vostra figlia. «Eh? Hai sentito, Hilda? Madre di Dio! Siamo molto onorati per l'offerta di Don Diego, ma non possiamo separarci da nostra figlia. Vedete, è ancora troppo giovane per poter vivere lontana da noi. Razza di miserabile! È così che mordete la mano che vi porge la carità? Il vostro è un affronto al mio padrone, ma so io come bisogna trattare gli scalzacani della vostra risma. «Avanti! Andate a prenderla!» I due entrarono nella locanda e trascinarono fuori Maria Dolores, che si ingiozzava e ci implorava di aiutarla. «Papà, mamma, aiutatemi! Fermi! Lasciatela!» «Basta così, amico! Pum! E vale anche per te! Ah! Aprite bene le orecchie, voi due! Vi avverto che se tenterete di informare le autorità su quanto è successo, non rivedrete più vostra figlia. Andiamo!» «D'allora non abbiamo più saputo niente di lei. Chissà come soffre, pobresita! Coraggio, Ilda! Non devi piangere! Nostra figlia non è morta!» «Ma è come se lo fosse, Don Diego! Non le farà mai tornare a casa!» «Vostro marito ha ragione, signora. A tutto c'è rimedio, meno che alla morte!» «Se mi spiegate dove si trova la residenza di Don Diego Viglialta, andrò a fargli visita e vedrò di convincerlo a restituirvi vostra figlia.» «Ma voi chi siete?» «Mi chiamo Tex Wheeler, sono un Ranger del Texas e, pur non avendo alcuna autorità per poter agire in maniera ufficiale in territorio messicano, spero di riuscire nel mio intento.» «Aspettate, signor Wheeler. Vi ho detto della minaccia che ci hanno rivolto e se pensassero che siamo stati noi a chiedervi di intervenire la vita di mia figlia, potrebbe correre un serio pericolo.» «Rassicuratevi. Non mi presenterò da Don Diego dicendo che agisca a nome vostro.» «Ma come pensate di poterlo convincere? Lasciate fare a me. Ho una certa esperienza nel trattare i Padri Eterni come il vostro Don Diego. Con loro a volte basta le parole, altre volte è necessario l'uso delle mani e, nei casi più disperati, mi faccia aiutare da un paio di aggeggi che porta appesi sui fianchi.» «Devo mettervi in guarda, signore. Don Diego ha almeno una ventina di ombre assarmate fino ai denti che vigilano sulla sua sicurezza.» «Una ventina, avete detto? Sono parecchi, ma dubito che stiano sempre insieme e, presi pochi per volta, non rappresenteranno un serio problema.» «Adesso, se non vi dispiace, vorrei ritirarmi nella mia stanza. Ho della stanchezza ritrata da smaltire.» «Hilda, pensaci tu. Venite.» E adesso qui mi fermo e riprenderò domani proseguendo la lettura. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro la buona notte.